14.000 ore di formazione fantasma, ovvero esistente solo sulla carta, con tanto di registri didattici e delle presenze, ma sui banchi i dipendenti non sono mai andati, perché quelle elezioni non sono mai realmente esistite. Con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di indebita a compensazione di crediti inesistenti, due titolari di case di riposo circa 50 anni, che si trovano in Valle Peligna e Alto Sangro, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Sulmona. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2024. Le due aziende hanno dichiarato di aver speso ben 800.000 euro per la formazione del personale dipendente al fine di ricevere l'incentivo comunitario finanziato dai fondi PNRR. I corsi tuttavia non sono mai stati effettuati né in presenza né da remoto. Inoltre, secondo le indagini della Guardia di Finanza, le imprese beneficiari e del credito hanno azzerato tutti i loro debiti, ricorrendo all'Istituto della Compensazione Orizzontale. Infine, una delle imprese non aveva requisiti giuridici per poter richiedere il beneficio, poiché versava in una situazione di difficoltà finanziaria per avere eroso il capitale sociale oltre i limiti consentiti dalla legge.